Non c'è solo la bomba, le ucciali, ecco c'è amianto danneggiato anche sui tetti dell'ex vellutificio Redelli, quartiere di Rancio. Lo scorso 11 agosto, a seguito di un violento temporale, alcune lastre di Eternit si sono sollevate e sono cadute finendo a pezzi nelle vicinanze della fabbrica di Smessa. Ad allertare forze dell'ordine e amministrazione comunale erano stati alcuni residenti perché frammenti di cemento amianto, materiale lo ricordiamo potenzialmente cancerogeno, erano finiti lungo via Sala, una strada pedonale che collega Rancio Bassa a Rancio Alta. Nell'occasione le autorità erano intervenute, avevano rimosso l'amianto caduto e avevano transennato l'area, raccogliendo i frammenti di Eternit in un sacco di celofan. Subito dopo quanto accaduto, il sindaco di Lecco, Virginio Brivio, aveva emesso un'ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica, chiedendo alla proprietà dell'ex vellutificio, fabbrica in fallimento, di intervenire urgentemente per ripristinare la copertura danneggiata, oltre che rimuovere e mettere in sicurezza l'Eternit caduto all'interno della proprietà e sulla pubblica via. Mesi dopo, il sacco con l'amianto è ancora dove l'hanno lasciato i pompieri. Frammenti di isolante rotto si trovano a fianco del sentiero che sale verso Rancio Alta e le lastre danneggiate non sono ancora state messe in sicurezza. Non avendo rispettato le prescrizioni, la proprietà rischia una denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. La pena prevista è l'arresto fino a tre mesi e una sanzione di 206 euro. Stando a quanto previsto dall'ordinanza, a fronte di questa situazione toccherebbe dunque al comune rimuovere l'amianto e mettere in sicurezza per poi addebitare le spese al proprietario. Oltre al danno viene da dire anche la beffa. E' proprio come per l'Aleuci l'amianto nel frattempo resta lì a due passi dalle case e dal viottolo che collega i due rioni.